Siamo fatti così, siamo proprio fatti così, te lo ricordi? Era uno dei miei cartoni preferiti quando ero bambina. Ebbene sì, è importante sapere come siamo fatti, quindi ecco qui un video dove ti spiego quali sono gli addominali coinvolti nel core. Ciao, io sono Erika, sono insegnante certificata di Pilates e fondatrice di Pilates in salotto, il corso online dedicato a tutte le donne che hanno poco tempo per allenarsi a casa, ma vogliono comunque rimanere in forma in maniera consapevole. Abbiamo capito che in una lezione di Pilates vengono stimolati soprattutto i muscoli del centro del corpo, la cosiddetta powerhouse. Ma in che modo lavorano questi muscoli durante un allenamento di Pilates? Te lo sei mai chiesto? Imparare a conoscere il nostro corpo ci dà la possibilità di gestire un movimento consapevole, aumentando così la qualità dei nostri allenamenti. Eccoti quindi spiegati in maniera semplice i muscoli addominali coinvolti nel centro del corpo. Partiamo innanzitutto dalla classica tartaruga, il retto dell'addome. Questo è il classico muscolo a quadratini che si nota in una persona particolarmente allenata. A cosa serve? Serve a farti fare torsioni, a fletterti in avanti e a flettere il torace. Gli obliqui. Gli obliqui si suddividono in esterni e interni. Come si può indurire anche gli obliqui esterni sono muscoli superficiali come il retto dell'addome. La loro azione è quella di contribuire alla dinamica del respiro. Ti aiutano inoltre a fare retroversione col bacino, a fare una torsione del tuo busto e a flettere la colonna vertebrale. Gli obliqui interni sono invece muscoli più profondi e oltre a fare le stesse azioni degli obliqui esterni aiutano a bilanciare la pressione all'interno dell'addome. Infine c'è il trasverso dell'addome. Questo ha una funzione super importante per il pilates poiché contribuisce alla contrazione delle costole e alla loro dilatazione nella fase respiratoria. Quindi è importantissimo tenerlo attivo e in salute per respirare meglio e per poterti allenare con più facilità attivando anche la corretta respirazione del pilates. È inoltre importantissimo per mantenere una buona postura e inoltre contribuisce ad aiutarti ad avere la pancia piazza poiché costituisce un corsetto addominale di base su cui si sovrappongono poi gli altri strati degli addominali che vanno a formare poi un corsetto che avvolge il tuo addome proteggendo anche i tuoi muscoli. Studi recenti hanno dimostrato infatti che un trasverso dall'addome in salute ti aiuta a mantenere eleganza nella postura e soprattutto aiuta a prevenire il matti schiena. Quindi la prossima volta che decidi di seguire una lezione online di pilates e di allenarti a kata anche se hai poco tempo a disposizione fai prima di tutto questa cosa. Sdraieti a terra a pancia in su e concentrati sulla respirazione. Porta poi consapevolezza ai tuoi addominali ogni volta che butti fuori l'aria senti che si connettano e inspirando invece li rilassi allungando un po' di più la colonna vertebrale. Concentrati su movimenti lentissimi e estremamente semplici per portare ancora più attenzione alla sensazione di attivazione dei muscoli. Qua sotto ti lascio il link relativo all'articolo che ho scritto riguardo a questo video oltre che all'articolo che ho scritto sui cinque step fondamentali per imparare la respirazione del pilates utilissima. Se il video ti è piaciuto io ti invito a iscriverti al canale, lasciare un like e a seguirmi anche sui social network. Mi trovi su Instagram come bueli Erika. Grazie! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Qui trovi altri due video che possono essere interessanti per te.